Ciao a tutti! Siamo ritornati! Tommaso e il papino! E siamo ritornati per la festa, eh? Papino! E il papino si è comprato l'uovo di Pasqua e l'ha aperto adesso, ovviamente! Oh, ma il cioccolato piace e io non potevo aspettare Pasqua! Allora, perché non abbiamo fatto video. Un giorno la Nintendo si era, diciamo, rotta, non sappiamo bene ancora come, poi vabbè, non abbiamo fatto video, tanto se non funzionava la potevo usare soltanto due portate. Comunque, adesso abbiamo ripreso a funzionare. Poi lunedì abbiamo riprovato, funziona, quindi adesso possiamo tornare a casa. E noi abbiamo ripreso a fare video in un'occasione speciale perché è la festa del papino, ma anche l'uscita, Tommi, dei nuovi percorsi di Super Mario. Tommi, parlaci in un attimo mentre già fai partire le cose così... Un giocatore! Eh, esatto! Direi due! Allora, gran premio! Ah, un attimo, prima lo sapevate che nella corsa sfida adesso potete fare una cosa tipo che puoi selezionare nessun oggetto, voglio che in ogni cubo ci siano soltanto banana. soltanto funghi, qualcosa del genere. Ma ne vogliamo fare poi un altro video con questa cosa qui? Beh, potremmo, dato che il prossimo video è il decimo video di Mario Kart. Caspita, questa sì che è un'occasione, magari ci avremo qualche ospite nuovo. Ma fa 150? Sì, facciamo 150, Tommi nel frattempo parla anche dei personaggi nuovi. Oh, guardate! Sono usciti nuovi personaggi, per adesso c'è soltanto Struzzi e poi ce ne saranno altri. Vi posso capire però una cosa divertente? cosa? Guardate, se clicco Struzzi potete scegliere tipo Struzzi nera. Ma questo mi sembra che c'era anche prima, eh? Sì, però mi fa Struzzi nera. Ah, vabbè, dai, senti, io... Aspetta, io voglio Mario un classico. Io prendo Luigi. Allora, prendo Luigi, io... Mario... Allora... Beh, direi che questi vanno bene. Ma ci prendiamo il kart classico, Tommi, cambia solamente qua il coso... No, prendete le nupolette. Ma perché le prendete tu le nupolette? No, 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 prendo quello. Eh, lo penso anche io. Allora... Allora, vedete, qua ne usciranno ancora... Questi sono quelli già usciti e sono questi due, il trofeo frutta e il trofeo boomerang. Quello boomerang lo andremo a vedere in un prossimo video. Non so se lo andremo a vedere nel prossimo, che sarà il decimo, magari veremo una cosa speciale. Ma comunque... Però lo andremo a vedere. State attenti perché... Poi usciranno questi due e per finire questi due. Dai, dai che sono impaziente di fare il Bangkok. Allora, abbiamo trofeo frutta che avremo oggi. Amsterdame... E il prossimo video, il prossimo video. Va bene, ok. Allora, Amsterdame in derapata, parco lungo fiume, pista, snowboard, DK, 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 se non sbaglio, è Donkey Kong. Donkey Kong, a me non mi piacciono le piste piacciate. E Isola Yoshi. Isola Yoshi. Oh, bellissima! Senta bella! Sì, sì, adesso lo facciamo, va bene? Dai, dai, forza, iniziamo a vedere com'è andata. Tommy, ma io queste piste non le ho mai viste. Tu hai avuto modo di provarle? Come ti sono sembrate? Beh, carina, ho fatto una piccola prova per vedere com'era. Senta bella, comunque sono molto carina. Va bene, ok. Ho provato tipo 50 cicci. Proviamo, proviamo! Provenzione! Ma no! Vai no! Il caldo da Mattezzo del papino! Oh, vai, 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 vai! Oh, superoo! Supero! Mi chiede sono, basta, è l'ander. Si muovete! Ah, si muovete. Bello che proprio questo percorso, è che... Hansterdame! Hansterdame. e l'olanda ma prima che non l'hanno spostata è come gli assiri ma qua sono caduto nel fiume nido perchè gli assiri che hanno spostato la capitale eh si, dal sur a nido e sono qui per parlare degli assiri non siamo qui per parlare degli assiri nooo la cuba a gomito eh non è famosa ma come non è famosa oh ma ma no oh 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 tram ahia Tommy questo no il canale allora io ci sono stato da amsterdam e vi posso garantire che l'acqua non è una posibilità allora oddio non è che quella di venezia è la più pulita oh pulpine l'ho tirato io grazie eh vabbè vabbè vengo cosa pure il banale ma chi è che butta tutte queste banane in mezzo all'acqua e che ne so non mi ricordavo che c'è tante banane Mario Kart ma senti una cosa questo è uno di quei percorsi che poi cambia direzione si vedi che ci sono le frecce e io magno e io magno nooo ma non comprare le piante ancora che ne avevo giocato no no non sono mai abbastanza le piante ma io tommy meno male che non c'erano i petienti che hanno fermato nell'automissionale che c'erano sotto dai e tommy eh però ma se non te la posso buttare la pompa sottante oh oh ma mi confetti che quando si accetta la patina dietro i tulipani grande non lo so che cosa succede i tulipani sono troppi molto famosi in Olanda si lo so e hanno fatto un bel lavoro qua ah bello però eh oh oh zitto che papino è primo oh aiuto dove 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 ma li fareanno nuovi percorsi tipo anche qualcosa in Italia secondo te? ma infatti allora l'intento non do primo papino dopo il bicipito del papino cioè avete fatto Olanda cioè veramente Giacogone Francia una cosa sul Colosseo magari sul Colosseo anche la Torre di Pisa tipo quello del genere come vuoi te lo cimo? eh sì un po' ti schifo impegnati ehi non ci posso venire il papino è primo sapete che oggi ho fatto l'esame di karate? ah vero oggi domani ho fatto l'esame ovviamente come al solito al papino li chiamano per fare le foto si è foto proprio ufficiale al papino come è dato tutto bene? si si cintura? verde e blu eh tra poco nera tra poco nera devi aspettare 16 anni e va bene e va bene e va bene hai 10 altri 6 anni e aiuto oh cos'è questo? qualche lungo fiume giuro che questo non l'ho provato quindi non so com'è questo è stile donkey kong però Tommy ma perché non hanno fatto di donkey kong? ma infatti ma ci sono sempre quei blocchetti tipo quelli della pista del cicluto di Mario ma perchè vuoi aver fatto così bene? beh anche io sono fatto di lo stesso sono anche te banana e anche io io non c'ho da banane ooooh e lanciano anche gli altri ooooooh ma sei tu avanti? no se lo siano ma non hai chiuso oh donkey donkey come ha bananeggia No, stiamo facendo una tirapata bestiale, ma quello sei tu avanti? Per un dicesimo, quello è Beppi Ma donmi scusami, ma queste piante con i pietini sono nuove No, non le ho mai visti Sì, sì Per me sono nuovità Missile blu Ho tirato un missile blu, attenzione Ma me stanno scassando Aiuto, queste piante Perché sono fissate in collo Guardi, in questo trofeo sono fissati con le piante Dai Mi hanno dato una Dicci, guardo di lato Guardo di lato Io guardo di lato e vado sto Ci sono che mi si peggiora la vista così Vai, 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 magna, magna Beh, aiuto 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 Oh, vai No, mi sono confuso Ah, utile, utile questo No, sono andato dentro Sono andato nella giunghila io Sono perso Te l'ho dato incontrare il mondo Mi ricordo un pochettino il tema mia Che a me piace tanto Non è? Sì, sì Sì, sì Perché ci segue Aiuto Sa che io sono un appassionato Soprattutto di Luigi E poi dei te Ah, ma Dei te mi apriva Ma è quelli nuovi No Ti sei preso Luigi Anche te Anche un po' E se guardate bene Nello sfondo Dietro c'è un Luigi C'è un Luigi Ah, aiuto Mi sono schiantato Ne giù Dai, dai, dai E dai Ho questo giughetto Abbandonato lì Meno male Ma prima ero più forte Io sono giù Sì, ma no Queste piante Quei piedi Veramente Allora, secondo me Secondo me Nei prossimi percorsi Secondo me Nei prossimi percorsi Ci sarà qualcosa Di delicato Settimo Settimo Io Ma penso Ma guarda Io ho soltanto Nove Ma io In un momento Che stavo andando bene Poi mi hanno scassato Tutti Io sono Un'unica Sivica Con la suprema Dai, però Uffa Non va bene così Odio Le piste Giacciate Quei pinguini Ma ci sono Le pinguini Ci sono Tipo di Questa pista Io me la ricordo Ma è della Wii Non me la ricordano Quello signore Io me la ricordo Questa pista No, non mi sono No, questa No, questa No, però No No, non mi è nuova Dove l'ho vista Dove sta andando Intanto Ma non me la ricordo Anche io Non mi è nuova No, me la ricordo Non mi è nuova Ah, sì Forse ho capito Com'era Vero Era della Wii Forse Sì, sì, sì 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 Sfortuna Togliti Perché mi spinge Aiuto Aiuto Tommy Mi spingono Mi spingono Mi spingono Mi spingono Mi spingono Concentrati Sono loro No, sono state tutte le burrone di Halloween Dove? Il burrone di Halloween Adesso ne sono d'anno Uuuuuh Con la Emma Lo sto facendo I mega Anche Zampo L'Ai Sì Aiuto Mi spingono Mi spingono Stella Ma chi è questo qua? Ma c'è un'attività di dei personaggi Che non ho mai visto Cioè Ah ma dove sono dei personaggi Qua è più personaggi Oh Quello Ottimo Meritatissimo Ma quanto? Meritatissimo Ma che non l'hanno detto Quando eri quarto? Cioè E la festa del papà Magari Magari lo sanno Ok Tutti i papà del mondo Soprattutto il giro Oh 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 Beh Beh Sicuramente per adesso Meglio di prima Però mi devo concentrare Questa Vai Wuhuu Un bischio verde Vai Arrivado Oh 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 No Pianta Mangia Mangia tutti Perché mangia tutti Mangia proprio Tutti tutti Vai 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 Ma che è ancora Tutti io Ma dai È finita L'avancia finta Dai No 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 Dai no Nel supremo Mortale Di Mario Super Voldemort Sì Mario Voldemort Ma che è Mario Voldemort Erika Oh Primo Vieni L'ho fantafurminati Devo rimanere con me Oh Missile Luf No Missile Luf Dai No Eppure Vivo Oh scusa Non volevo fare No Non volevo fare No Non te la portare No No Non te ne devi approfittare Oh Ma che è Bevi male Ma che vuole Devo superare No Papà Mi ha sfintato il furrone Ma chi Sì Ma non è vero Oh Ma tu non ti hai le bugie Ma io Ti fai che butto il mio figlio Ne auguro Sì Ma ti pare Sì Dai Oh ma insomma Ma io ho vivo Mi stanno superando tutti Secondo Sì No secondo Dai Dai Quanto Dai Dai Vabbè Mi stanno piacendo molto Questi percorsi Belli Belli Oh sono salito molto Di classifica Sono almeno quinto Dai Posso fare Quanto L'ultima pista Primo Se arrivo Primo Secondo Adesso Qual è Tobi Quella di Yoshi Grande Questo È simile A Let's Play Quella di Yoshi Crafted World Però È Un po' Diverso Ma chi è quella povera papela lì È di Yoshi Oh ma è bellissimo È di Yoshi Island Che è una specie di Yoshi Crafted World Però un bel po' Diverso Guarda Guarda C'è anche il cane Quello C'è anche il cane Quello lì Che non sa fare C'è il cane Che non sa fare Nemmeno Due per due Perché i cani Fanno una comunicazione Ma perché Sto è novità Delle piante Così Quei trami Aiuto Ah no Non mi ha togli Ho mangiato Chi è sta cosa Che ne hai chiesto Ah questo per questo Adoro Ah aiuto Bello Bella Tella sensazione Sai Però Ecco Ho sparafresciato Pellinale Aiuto Aiuto Ci sono i gabbiani Con le armi Che gabbiani Sono quei cosi Eh papà Ma è in goccia Da un gabbiano Un piccione Che è Eh papà L'avevo già visti Nell'explay di Yoshi A proposito Nell'explay di Yoshi Da un bel po' Che non facciamo Un video di Yoshi Ok Tra poco Li proveremo Adesso che Si pensa a funzionare Non intendo Secondo me Qualcosa possiamo fare Oh Vedete Che ci sono Grande Avete visto Che ci sono Le monete personalizzate Eh C'è Le monete personalizzate C'è Yoshi Disegnate Come No Ma Non ci credo Praticamente Ho tirato Il fuoco E' rimbalzato Sul sedere Della papera Oh no Va bene Non l'hai ascoltato Togge Ma C'è Perdi Scazzato Voleva Buttare A me La banana Ma mia Ah io tu Panane In pieno C'è Veramente Non si Non si buttano Nei papini Non si buttano le mananei papini Ma Va bene Lui non lo sapeva Magari Cosa Il fuoco di pasqua Che abbiamo avuto Abbiamo avuto E' buonissimo No 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 ma che se ne fega ma hanno sparato il mister blu ma papà ma è tipo la gente più rara del gioco ma ho capito ma proprio papillo era primo no mi hanno dato anche un pallottolo tenete l'inchiostro no ma dai che sfiga dai vivo ho tagliato grande papino ma domi aiuto almeno undicesimo dai 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 io primo 20 trapunti allora io 51 e mi sa che vinco il campionato no dai mi sei secondo e vabbè sicuro che hai vinto sicuro sicuro sicurissimo sicuro di tipo 4 punti c'è ma non vuoi lo sta confitto di aver vinto no dai che figuraccia no dai il papino lo sappiamo che non si giocherebbe vabbè ragazzi allora abbiamo ripreso questa puntata della speciale della perché ha tanto tempo che non facevamo un video l'abbiamo fatto alla grande con un po' per il posto di Mario ma ne seguiranno questo tanti altri a questo allora mi raccomando seguiteci mettete like e fate pubblicità ciao 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 ciao